Bella a tutti ragazzi, buoni in questo nuovissimo video, sono sempre OGDX E oggi mi trovo in questo nuovissimo server per farvi vedere come hacker questo Allora, per prima cosa vedete come mi picchia veloce Cerca anche di togliermi l'arma, ma non sono così coglione Guardate come cerca di... 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 Guardate la fly, la fly, la fly Ok, direi che per questo è tutto Un saluto da OGDX e bannate villager Ciao